Signore e signori, abbiamo il piacere e l'onore di potervi presentare qui al nuovo teatro di San Giacomo, il nuovo teatro San Giacomo, lo show, choir, vocalist, le playa di sotto la direzione della professoressa Lucia Targa. Il più caloroso buonasera, e allora godiamoci di noi, ci aggiorniamo con informazioni importantissime prima della paura, ma adesso scena, luci e tutta la vostra attenzione per questa meravigliosa formazione, per questi bravissimi vocalist. A voi, show, choir, le playa di. Applausi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.